Un caro saluto a tutti voi, con qualcuno è un piacere rivedervi. In questo caso siamo quasi in diretta con AV Magazine, la rivista online di Emilio Frattaroli, con la quale ci pregiamo di collaborare alcuni di noi, io in particolare per quanto riguarda la proposizione di Buona Musica, ma in fondo la proposizione di Buona Musica è quello che ci accompagna, o almeno molti di noi, sin dai tempi per esempio del Top Audio, e parliamo di edizioni che risalgono addirittura agli anni 90. Anche a suo tempo con la rivista Audio Review abbiamo prestato assistenza agli importatori, ai distributori, agli operatori, ai negozi, alle sale, per ascoltare insieme Buona Musica e scegliere soprattutto, come è il caso di questo piccolo momento che stiamo realizzando, scegliere insieme delle buone registrazioni, perché l'impianto ha una caratteristica che se non gli metti un disco non suona, ma anche il disco ha una sua peculiare caratteristica che se non gli metti un impianto non suona. Il miglior impianto suonerà quanto suona il disco che tu gli metti. Ecco perché è importante una buona selezione. Tra l'altro, per il prossimo mese, e ormai stiamo parlando dell'inizio e usciremo questa volta per il primo di novembre su AV Magazine, il disco del mese è dedicato alla musica di Copland, ma in realtà tutto questo nasce per, lo possiamo dire, sì, per una prova di un subwoofer. Insomma, Emilio Frattaroli viene a casa mia e mi dice, dobbiamo testare un subwoofer, attenzione, non in un impianto di tipo home theater, no, ma il subwoofer utilizzato anche in un impianto semplicemente due canali. Ma un sistema a due canali con casse grandi ha bisogno di subwoofer? Sì, ma di questo ne parleremo meglio. La stessa Wilson Hau utilizza, per esempio, un suo subwoofer che si chiama Thor's Hammer, proprio per questo motivo. E mi chiede il Frattaroli, ma ce l'hai un disco che ha dei bassi? Cioè, tu vieni a chiedere a me se ho un disco che ha dei bassi? Sì, il problema, semmai, è l'imbarazzo della scelta. E mi serviva un disco che in pochi secondi potessimo misurare qual era la risposta del sistema, un disco che avremmo potuto portare a far ascoltare a voi o in altre situazioni come questo, come dire, che in pochi attimi, in pochi momenti ci dava un'idea della risposta, che fosse un brano magari abbastanza noto. Mi è venuto in mente Copland. Aaron Copland, compositore americano del ventesimo secolo, scrive questa sua fanfare for the common man. È un brano che conoscete anche nella rivisitazione di Emerson, Lake & Palmer, per esempio. Utilizzato in molti film, nella colonna sonora, è un momento evocativo, è quasi una celebrazione del milite ignoto. Questo common man è l'uomo comune che è la vittima, come dire, di tanti conflitti. E questo è un brano che dura soltanto tre minuti, pensate. Per ottoni, quindi fanfare vuol dire non un'orchestra, non una banda, ma essenzialmente così come la fanfara dei bersaglieri, sono soltanto gli ottoni. È un gruppo di una quindicina di ottoni e percussioni. Quali sono le percussioni? Le percussioni sono, in questo caso, la gran cassa, i timpani e il gong. In particolare sentirete in questa registrazione le armoniche del gong che viene lasciato risuonare. Let Ring, dice proprio nella partitura Copland. E il botto, che sentite, bam bam, così caratteristico, non è solo la gran cassa, ma è gran cassa raddoppiata dei timpani. Bene, di quale registrazione stiamo parlando? Stiamo parlando di un'incisione molto interessante, di una serie della Chandos, un'etichetta britannica. Questo è un super audio CD. Esiste, questo è anche ibrido, quindi ovviamente è anche un CD, ma esiste anche in formato liquido, se voi preferite, in 2496 su vari siti. Questa è una parte di una serie dedicata alla musica di Copland. C'è un articolo di approfondimento che naturalmente stiamo per far uscire su AV Magazine, ma intanto non ci resta che ascoltarlo. A questo punto è la BBC Philharmonic, diretta da John Wilson. Wilson con Wilson, vedi? Non avevo pensato a questa cosa. Glielo dobbiamo regalare una copia anche a Daryl Wilson, naturalmente, e mi sono permesso di comprarmene alcune per me e alcune per gli amici. Ovviamente, se vi dovesse piacere questo brano, sappiate che con la musica in formato di file si può acquistare anche soltanto la prima traccia, cioè quella con Staffan Fairford e Common Man, ma tutto il resto del disco, per i più curiosi, non è da sottovalutare. Io direi bando alle charle e continuiamo con questi pochi minuti di ascolto. Intanto vi ringrazio per essere qui, ma grazie soprattutto a Luca Natali, Audio Natali, che anche quest'anno ha avuto la pazienza di sopportare le nostre incursioni musicali. Per chi vorrà oggi pomeriggio c'è un programma completo, insomma, un'oretta di musica, ce la sentiamo insieme, c'è il programma e naturalmente saremo qui per voi anche domani. Grazie intanto e buona musica a tutti.